Il santo del giorno 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 Sempre lui Sempre Mirko Qua invece Lo vedete con la mano Alzata Durante una serata Non fateci saltare La stagione Invece il grido Di allarme Dei bagnini Che vorrebbero sistemare Le spiagge Un mare di incognite Però Domani intanto C'è un incontro Con la regione Segnale di speranza La riapertura Delle librerie Delle cartolerie Una riapertura Però timida Con tante restrizioni Mentre La lista dei lutti Purtroppo si allunga Altre otto vittime Ieri in provincia A Pesaro Urbino Si registrano Per ore Sinora In totale 417 Decessi E poi benvenuto Anche al piccolo micchi Che vedete nella fotografia Qua sul Carlino Il neonato Che ha sfidato La pandemia E questo è un lieto Chiaramente Lietissimo Evento E poi ancora Spende 18 mila euro Per fare i test Seriologici Ai suoi dipendenti C'è un'intervista All'interno del giornale Porto il cibo Alla gente isolata Eppure i vigili Mi multano Ad Apecchio La protesta di Corseo Lo leggeremo Nel corso Della rassegna stampa E poi il festival Che corre ai rimedi A Pesaro Nuovo cinema Dalle seggiole Al drive-in La manifestazione Si sposterà ad agosto E per mantenere le distanze Adotta la formula Americana Del Appunto del drive-in La struttura di Villa Fastigi Invece Apre la RSA Con 30 posti letto Per malati covid Finalmente l'accordo raggiunto Tra il gruppo Santo Stefano e l'Asur Così si alleggeriranno Anche gli ospedali Il virus e i nuovi contagi Sono sotto quota 100 Come dicevamo Positivo Un test su 10 Continua a rallentare La diffusione Del covid-19 La crescita giornaliera È allo 0,8 Calano i ricoverati 24 in meno in un giorno Ieri altri 19 morti Però in tutto Sono 746 Prosegue L'aumento Dei dimessi E dei guariti Sono arrivati A 1.603 Dalle analisi di Pasquetta Il minor numero di positivi È registrato Nell'ultimo mese E poi shock Per i Camillas Zagor Non ha sconfitto Il nemico più subdolo Mirko Bertuccioli 46 anni Vittima del virus Covid-19 Era ricoverato Dai primi di marzo In gravi condizioni Le lacrime di Bugo Amico di famiglia Dal 2002 Al plastic Dicevamo Il noto Zagor De Camilla Si è spento Ieri ad Ancona Dopo una lunga lotta Contro il coronavirus Non c'è stato nulla da fare Oltre ad un mese Un mese di degenza Ad Ancona Ma i polmoni di Mirko Non hanno voluto Saperne di ripartire In tanti In questi lunghi giorni Di attesa Ripetevano le note Della canzone Che Insomma Della nota Canzone Motivazionale Di Frank Matano Ma questo male invisibile Non perdona E ha privato Non solo la nostra città La città di Pesaro Ma tutto il mondo Della musica Di uno dei suoi più ironici Appassionati protagonisti Capace di inventare Un pop surreale Giocoso E dolce amaro Impossibile Da dimenticare Sono in tanti A ricordarlo Vedete Nel giornale di questa mattina Il primis Il sindaco di Pesaro Ricci Che dice Pesaro ha perso Ha reso Scusate Ha reso più belle Le vite Di tanti giovani pesaresi Mentre Gilberto Santini Dell'AMAT Buonanotte Dolce Principe Io sono carico di dolore Pedro Armocida Noi del nuovo cinema Che dice Sempre con noi Lui e i suoi abbracci Indimenticabili Anche il resto del carino Lo ricorda Dio Bertuccioli Musicista scansonato Un mese di agonia Poi i polmoni hanno ceduto Il confondatore di Camilla S'ha lottato come un leone Ma il virus Aveva lasciato segni letali Il contagio probabilmente È avvenuto in Lombardia Il respiro autonomo Non è riuscito a ripartire Nel 2015 Arrivò alla finale Di Italia's Go Talent Con il compagno Toto Il cordoglio del sindaco Ricce Vimini Che dicono Ha portato il numero di Pesoli In tutta Italia E non solo La sua scomparsa Ci sconvolge E c'è un'altra vittima Del virus Muore il decano degli ingegneri Augusto Londè Aveva 80 anni Nei giorni scorsi È venuto a mancare Il decano degli iscritti All'ordine degli ingegneri Di Pesolo Rubino Era ricoverato a Senigaglia Ha dedicato Tutta la sua vita Alla professione Di ingegnere Poi sul Di nuovo Sul Corriere Adriatico Le notizie Che arrivano Da dentro L'ospedale La rianimazione 64 posti liberi Mentre nasce Il maxireparto Ecco perché Serve ancora Quello di Civitanova Terapie intensive Decongestionate E via Ai lavori Alla fiera Cericcioli dice Continua Insiste E dice Se risalisse l'onda Non potremmo farci trovare Impreparati E le tappe di questo coronavirus Dal momento in cui si è deciso Di fare questo super ospedale Questo hospital Covid hospital Per far vedere un po' Anche con i numeri Della terapia intensiva Per far vedere un po' Com'è l'andamento Quando si è deciso Il 22 marzo Di chiamare Ceriscio Di chiamare Bertolaso Lo ha fatto chiaramente Ceriscio Per questo covid hospital Delle Marche I ricoveri in terapia intensiva Erano 138 Il 23 marzo Quindi il giorno dopo La regione ha lanciato subito Una colletta tra gli imprenditori Per raccogliere 12 milioni di euro Necessari In quel giorno Quindi il giorno dopo I ricoveri in rianimazione Erano saliti di 10 Quindi a 148 Per poi arrivare a 162 Il 27 di marzo Quando come sede Della maxireanimazione Da 100 posti E' stata scelta La fiera di Civitanova Quindi come vedete Il trend è in assoluta crescita Da 138 Eravamo arrivati a 162 Poi però Dal 27 di marzo Al 14 aprile Quando parte la fase operativa Dei lavori I ricoveri in terapia intensiva Sono scesi Notevolmente Da 162 A 106 E tant'è che ci si chiede appunto Qualcuno chiede ancora L'ho fatto anche ieri Con una nota L'ex governatore L'ex magistrato Ex governatore Delle Marche Si è chiesto Appunto Se è il caso Di continuare Su questa strada Ma Ceriscioli Tira dritto E va avanti Intanto La ripartenza Nelle fabbriche Alla Ariston Per esempio Termo di Albacina 5 metri di distanza Tra gli operai La Whirlpool Invece è pronta A ripartire Con le sue fabbriche Già da domani Ma oggi C'è il confronto decisivo Sulla prevenzione Anticontagio Sempre sul Corriere Adriatico Oggi è molto interessante Il Corriere Adriatico Se avete la possibilità Andatelo a comprare Ci sono tante cose Interessanti In pagina d'oggi Ci sono delle notizie Che al di là Della lista Insomma Di chi c'è Non c'è più Mette in evidenza Anche tutti Gli aspetti Soprattutto per chi Vuole ripartire Per chi ha bisogno Di ripartire Per noi Ma anche per chi lavora I lavori nelle spiagge E sulle barche Tutto quello che da oggi È concesso La regione ha stilato Un elenco di attività Che possono già essere effettuate Con le dovute cautele Qui Anche oggi Il giornale Semplifica un po' La vita dei cittadini Dei marchigiani Facendo Questo Questa sorta Di vademecum Dove ci sono Le appunto Le varie situazioni Dai cantieri navali Dove serve Un permesso Per spostare Per esempio Gli scafi ultimati Alla cura dei parchi E dei giardini Che è consentita Anche per i privati E poi Per il settore Agroalimentare Che invece può proseguire Senza limitazioni Sulle imbarcazioni Ormeggiate Al porto I piccoli lavori Sono autorizzati Così come Il ripascimento Sul lungomare Che però Va segnalato Per i controlli Ok Anche agli allestimenti Degli scelei Dei chioschi Sempre in spiaggia Però l'area Va recintata I soldi Dal governo 100.000 In fila Per ora Cash Soldi in contatti Solo alle partite IVA Arrivate 44.000 Domanda Anche questa È una pagina Molto interessante Da leggere Riga per riga Il triplo Della Liguria Vitale Direttore Dell'Inps Delle Marche Dice I pagamenti Arriveranno Verranno effettuati Entro venerdì Vitale Fabio Vitale Che ha 58 anni È il nuovo direttore Regionale Dell'Inps Dell'Inps Marche Da dicembre Dello scorso anno Ex giornalista Tre lauree Ed è stato Direttore Dell'Inps Del Lazio Lo vedete qui Nella fotografia E qua invece Il riquadro Con tutti i numeri I numeri Interessanti Ripeto Della forza Lavoro delle Marche 670.000 Lavoratori 85.000 Nel settore pubblico 225.000 Sono le partite IVA Con tutte le varie Sottocategorie I delfini Nei porti Tornano le api Anche i lupi E l'aria È più pulita La terra Quando l'uomo Si è fermato È tornata La terra è tornata A risvegliarsi Si è ripresa I suoi spazi Si è ripresa I suoi tempi E anche questa È una pagina Molto interessante Molto Bella Che parla Appunto Di come La natura Si sta riprendendo I suoi spazi In spiaggia Sbocciano i gigli Di mare La Coldiretti Parla di danni Però Per noi Un capriolo Si è spinto Fino al centro commerciale I fratini Hanno deposto Le uova Tra le dune Di sabbia Insomma Anche questo È un articolo Da leggere E poi invece Tornando Negli ospedali Marche Nord Nuova fase Chiudono Due rianimazioni Riparte L'attività chirurgica La rimodulazione Dei reparti Riguarda Sia il San Salvatore di Pesaro Che il Santa Croce di Fano L'appello Dei sindacati Massima sicurezza Per il trasferimento Del personale sanitario Riabilitazione Per i guariti Da Covid Dal Covid-19 Percorso attivato Tra azienda ospedaliere E a Ravasta Simoncelli Dice È necessario Anche Rimparare Come abbiamo visto A respirare Da soli Abbiamo arginato L'onda Prima che ci travolgesse Il monito Del neurochirurgo Agostini Sul rischio Del secondo flusso Riflettevo Dice Su questa Su quanto sia stata Una situazione surreale Lo era all'inizio E lo è anche ora Il principio In principio era una guerra Arrivavano 30 50 pazienti E fuori era tutto normale Si faceva fatica A trasmettere Quello che vivevamo All'interno Noi All'interno dell'ospedale Ora abbiamo due Tre ingressi in strada C'è il silenzio assoluto E chi parla È appunto Il dottore Emiliano Agostini Neurochirurgo Di Marche Nord Avevamo oltre mille pazienti L'anno Mi sono reso disponibile Per questa emergenza Vissuta in primo piano Tra pronto soccorso E medicina D'urgenza Dice il dottore Originario Di Porto San Giorgio È appesero ormai Da 12 anni Ha tre figli Fin da subito Gli ho mandati A fare attività sportiva Non c'erano di vieti La gente continuava È stato un errore Anche mandare Dice lui Far continuare Come se nulla fosse Ma davvero E qui lascio Vi lascio leggere Questa intervista Realizzata da Camila Cataldo Sul Corriere Adriatico A pensarci col seno di poi Davvero Quanto si poteva fare prima Se soltanto avessimo Ma insomma Con i sì e con i ma C'è poco da fare Biancani Apre Villa Fastigi Trenta posti Per covid Non gravi Mentre almeno Un mese e mezzo Per sistemare la spiaggia I bagnini di Pesole Fanno subito al lavoro La regione Fa chiarezza Sulle manutenzioni Ci sono anche Delle precauzioni Da seguire Un freno Alla compagnie Sotto gli ombrelloni Quindi scordiamoci Probabilmente Le super maxi compagnie Che fino all'anno scorso Animavano Le spiagge Nei vari concessionari Probabilmente Si tratterà Di studiare Qualche formula Adesso A parte il plexiglass Che insomma Fa veramente ribrezzo Ma quella Credo sia stata Più una provocazione Ho visto delle fotografie Ma basta andare su internet Per trovare Questo plexiglass Studiato da una ditta Di Modena Ma credo Ripeto Sia più una provocazione Che altro Bocciati Ecco infatti Lo scrive anche il giornale Qui Bocciati Boxing Plexiglass Lo credo bene Insomma Ma una gabbia E poi La mini ripartenza Non convince tutti Flop per le librerie E l'abbigliamento Per bambini Insomma sì Come dire Che senso ha Non lo so La prima ripartenza Al lavoro La metà delle 40.000 imprese L'altro titolo Del Corriere Adriatico Di stamattina Sono 18.871 Le attività E tra queste 653 in deroga Per ora Respinte Solo 5 richieste Di riapertura Appunto Ha respinte la prefettura I sindacati Manca il personale Per i controlli Rischiamo La ripresa Dei contagi In tre giorni Invece 232 multe Il picco È stato Nella giornata Di Pasqua Elicottero Motevedetta Pattuglia in strada Su tutte le direttrici Oltre 4.000 persone Controllate E 232 multe E questo è il bilancio Nella provincia Di Piesolurbino E poi guardate Queste sono le fotografie Di tutte le estetiste O tutte insomma Quelle che ha Sondato Il Corriere Adriatico Sono le estetiste Vedete in questa fotografia Che si sono Qualizzate Si sono riunite E fanno fronte comune Adesso In cento Scrivono Alla rappresentante Nazionale E lanciano un appello Un appello Che tra l'altro È partito Dalla pesarese Michela Sabatini Da noi È già tutto sterilizzato Lavoro nero E spese Ci stanno stritolando Apriamo Il 4 di maggio Dunque Chiedono Tutte le estetiste Partendo da quella Di Pesaro Appunto Di ripartire Il 4 di maggio Vado a Monbaroccio Perché lì c'è L'acqua buona Valanga di richieste Bizzarre Arrivano ogni giorno Alla polizia locale Decine di persone Che vogliono aggirare I divieti E rischiare il contagio Porto la mamma Dalla nonna Che sta morendo Per il coronavirus Insomma Se ne sono sentite E i vigili La polizia Insomma Ne ha sentite Di cotte di crude Qualcuno che appunto Sosteneva L'acqua di Monbaroccio Mi fa molto bene Devo assolutamente andarci Va bene Se mi metto in auto E vado da Pesaro Monbaroccio Oppure Ho bisogno Di pitturare Il cancello di casa Lo sto scartavetrando Posso uscire A comprare Vernice e pennello Insomma Sono queste E molte altre Le domande Alle quali La polizia locale Ha dovuto rispondere In queste giornate Di quarantena La carta di identità Invece La patente Erano false Arrestato un fanese Di 46 anni È stato processato Per direttissima Con collegamento video Un anno e 4 mesi La pena inflitta Il bilancio Di tre giorni di Pasqua Multate Anche qui vedete Sul Carlino 232 persone E tre denunce Oltre 4 mila Fermati Il prefetto La polla dice Grazie alle forze Dell'ordine E al senso E al senso Di responsabilità Tamponi Il lungo giro Tra laboratori Ecco perché I risultati Rivenutati Questo è un articolo Invece di Simona Spagnoli Che vi consiglio Sul resto del Carlino Perché si parla E dà risposte Interessate Anche sul fronte Appunto Dei tamponi C'è chi non riesce Ad andare in banca Per fermare La richiesta di mutuo Perché manca Il test di verifica Della guarigione Voi sapete che Per chi è stato Dichiarato positivo E quindi All'obbligo Della quarantena Nel senso Che non può Assolutamente Uscire di casa Perché se Venisse trovato fuori casa E fermato Rischia l'arresto Immediato Quindi Per tutte le persone Che sono positive Che però sono guarite In qualche modo E vorrebbero tornare Alla vita Di tutti i giorni Per fare questo Devono attendere Il doppio tampone Cioè devono farsi Tamponare due volte E quindi verificare Certificare Certificare Nero su bianco Che sono negativi Al tampone Ora Queste persone Spesso Che chiedono Di poter essere Appunto Certificate Quindi valutate Eccetera eccetera Devono attendere Molto tempo E quindi capite Che oltre a tutto Il disagio La tensione La paura eccetera Del periodo E del tempo Trascorso in casa Con il covid-19 C'è pure l'attesa Di poter Effettuare i tamponi E quindi L'obbligo Di rimanere a casa In una sorta di Appunto di Come dire Su carcere Una parola Una parola Un po' esagerata Però è una sorta Di quarantena Obbligatoria Quindi di fatto Non può uscire Quindi potete immaginare Qui ci sono Per esempio Persone che poi Hanno bisogno Di fare anche Altre cose Urgenti Mentre tutti gli altri Possono farlo Anche col certificato Questi che stanno In quarantena Devono Che hanno La positività Devono Obbligatoriamente Stare a casa Quindi un po' Una sorta di arresti Domiciliari Era la parola che non mi veniva Scusate Le strutture invece Però qui c'è tutto Un discorso diverso Che Sivola Spagnoli Spiega bene Nell'articolo Di questa mattina Del perché Queste ritardi Del perché Arrivano soltanto Dopo 5-6 giorni E non solo Perché le strutture Che sono appoggiate A tecnologie affidabili Come la Roche Non hanno avuto problemi L'ospedale di Urbino Invece Riesce A sistemare Riesce A testare Soltanto 40-50 Tamponi Quindi più di quelli Che servono Per l'ospedale Non riesce a fare Allora Tutti gli altri Vanno Vengono congelati E vengono portati Ad Ancona Piuttosto che in altre strutture Ecco perché dunque C'è Esasci Tardono 2-3 giorni Quindi ecco perché C'è tutto questo ritardo Soprattutto per quelli Del Monte Feltro Rabbia Bagnini Siamo in alto mare La regione deve permetterci Di sistemare le nostre spiagge Le mille incognite Dei titolari Sull'inizio della nuova stagione Domani una videoconferenza Con l'ossessore Pieroni Per avere qualche chiarimento Qualcuno mi ha detto Dice Luca Giordano Qualcuno mi ha detto Non ti offendere Ma questa estate Andremo in campagna Intanto il sindaco di Fano Scrive al governo Chiede contributi A fondo perduto E polizze per gli hotel Sono queste le richieste Al potere centrale Contributi Insomma il turismo balneare Un turismo esclusivamente stagionale Che si apre con la fine Dell'anno scolastico Termine con l'avvio Di quello nuovo Perdere la stagione Significa aspettare Altri 12 mesi Per avere la prossima Occasione di reddito Mentre da Bellocchi Bellocchi di Fano L'iniziativa Di alcuni cittadini Che hanno dato via Ad un meccanismo Di reciproco sostegno Coinvolgendo associazioni e aziende Contagiamoci Ma di profonda Solidarietà È stato Anche creato Un conto corrente Specifico Nel quale coinvolgare Le donazioni Di chi può Prendervi parte E poi sotto Invece Gente disorientata Dal virus Noi farmacisti Diamo un gran supporto Davvero Il direttore Della comunale A Sant'Orso È riuscito anche A ottenere Un farmaco Che è stato richiesto Dai malati Il Plaquenil Che è ritenuto Efficace Contro il Covid-19 Un farmaco La cui richiesta È spasmodica Rappresentando L'unica arma Contro il virus Al momento disponibile Introvabile Qui fino a qualche giorno fa Ora siamo riusciti Nell'impresa Di reperirne Qualche scatola Lo dice Con soddisfazione Appunto Luigi Peconi Che da un mese e mezzo In prima linea Dall'avamposto sanitario Più frequentato Con circa 400 Clienti Al giorno Ne sono morte 8 Ma ne abbiamo Salvate 64 Dice il responsabile Della casa di riposo Femminile Di via Spada A Pesaro Grande fatica Fisica ed economica Per sostenere Questa battaglia Abbiamo pagato 17 euro Le mascherine FFP3 Normalmente costano 1 euro E 50 Salgono a 9 I decessi a saltare Arriva l'infermiere A mezzo servizio Il sanitario sarà In condivisione Con la struttura di Mondolfo Intanto il sindaco di Colli Al Metauro Stefano Guzzi Torna a chiedere I tamponi Sollecita l'Asur Per avere una relazione Ufficiale Sulla situazione Della struttura Di saltare Dall'Asur Vorrei indicazioni chiare Ha detto A Guzzi Sull'opportunità o meno Di un mio intervento A tutela degli anziani ospiti Attraverso gli strumenti Che mi competono Come sindaco Appunto La RSA di Villa Fastigi Finalmente apre Dopo un braccio di ferro Con la regione Da oggi a disposizione 30 posti letto Per pazienti positivi Dimessi dagli ospedali Di Pesaro Urbino L'accordo quasi pronto Per recuperare Altri 80 posti Per chi viene Dalle case Di riposo Reazioni scomposte Questa invece È la risposta Che oggi dà Di nuovo Il Letterio Morabito Il primario Del reparto di neurochirurgia Dall'ospedale Marche Nord La risposta Che dà La replica Alla direttrice Del servizio salute regionale Che l'aveva accusato Di diffondere Falsità E lui dice Mi trovo Nell'obbligo Di replicare La dottoressa di furia Che mi accuse Di aver divulgato Falsità in una modalità Talmente dure scomposta Da tradire La necessità Di coprire Ritardi Ed inefficienze Evidenti A tutti Scrive Il primario Le risposte Sanitarie Dei burocrati Hanno sempre In seguito Mai prevenuto L'evolversi Dell'epidemia E poi Sui pazienti In attesa Dice Il mio reparto È stato di fatto Smantellato Sebbene potesse Lavorare nel presidio Di Fano Dal 9 di marzo Ma anche qui Una risposta Molto ficcata Molto Molto forte Multato Perché porto Da mangiare la gente Siamo a Baldare Di Apecchio Un paesino Di 100 anime Alle falde Del Monte Nerone Lì ci vivono Molti anziani E qualche giovane Tutti uniti Come una grande famiglia Non ci sono uffici postali Non c'è la farmacia Negozi E le restrizioni Legate al coronavirus Sono ancora più difficili Da sopportare Per questo Spicca la storia Di Corsio Lucchini Che ha 55 anni È di Cagli Qui lo vedete Davanti al suo camion In questa fotografia Da 33 anni Porta frutta e verdura Agli anziani Isolati A Valdara Però Siccome è l'unico ambulante Che raggiunge la frazione Con queste poche anime È stato multato Anche lui racconta Di essere stato Multato Chi porta a domicilio I surgelati Può farlo Io che preparo Le borse Su richiesta Dei clienti Perché Non dovrei Si domanda Appunto Lui Da Urbino Ancora Il resto del carino Summit Incontro con la regione Per ripulire l'ospedale Una videoconferenza Tra Gambini Ceriscioli E i consiglieri Comunali Per capire Le modalità E tempi di intervento Gambini che dice I pazienti Disertano Il nostro Nosocomio Perché temono Il contagio E in effetti Adesso C'è la paura Per chi non ha Il covid-19 Di entrare In una struttura sanitaria Per fare altro Perché c'è il rischio E la paura Di rimanere contagiati L'università Stampa in 3D Le protezioni Per i nostri sanitari Iniziativa promossa Dal gruppo Di tecnologie farmaceutiche Di scienze biomolecolari Preparato anche Il gel Per le mani A Urbino Però questa volta Il Corriere Adriatico Sì alla struttura Di Civitanova Noi saremo Centro No covid Le liste di Londè Chiedono risposte nette Sostenere con coraggio L'ospedale regionale Mentre Sempre da Urbino Buoni spesa Via alla seconda Trance utile Come accedere Anche occhielli al lavoro Le domande scadono Oggi Mentre sotto Italia Viva Sulle mascherine Chiede a Gambini Di Di attivarsi Di attivare Un ponte di solidarietà Con la Cina Con la quale ci sono E ci sarebbero già Rapporti istituzionali Stabiliti In passato E siccome mancano Le mascherine E in Cina Le producono Senza problemi Insomma Chiedono Quelli di Italia Viva A Gambini Di Urbino Di attivarsi Con questo ponte Di solidarietà Per avere Appunto Queste mascherine Per le quarantene Purtroppo Fanno sfuma Il Vittorio Colonna Il Comune Voleva sfruttare Questa struttura residenziale Per chi sta uscendo Dal virus La Regione Però preferisce Affittare gli alberghi Dunque È un'ipotesi Quella del Vittorio Colonna Di ospitare le persone In quarantena Che va Archiviata Per la protezione civile regionale Per accogliere soggetti In isolamento Che per ragioni di spazio Non possono rimanere a casa Pare abbia optato Per la soluzione Alberghiera Si parla di due o tre Alberghi per provincia Non ci ha contattato nessuno Dice però Luciano Cecchini Degli alberghi Consorziati di Fano E comunque È una proposta Che potrebbe interessare Quei proprietari Di strutturi Che magari hanno già deciso Che quest'estate Non apriranno So che a Senigaglia Dice ancora Cecchini Ma anche fuori regione A Cattoliche Rimini Qualche albergo Ha già accettato La proposta E comunque Va valutato L'impegno richiesto Perché alle persone Ospiti Andrà garantita Colazione Pranzo Cena Insomma E anche poi Il ritorno Chiaramente economico Sotto Sospensione di Tosap Tari E tassa di soggiorno A Fano I consiglieri 5 Stelle Lanciano la loro campagna I provvedimenti Andrebbero pensati Anche al di là Di Fano Certi principi Dovrebbero valere Praticamente Un po' per tutti Gli italiani Intanto buoni spesa Sempre da Fano Per 52 mila euro Ci sono ancora Questi buoni spesa Un'altra occasione Dunque per le famiglie Che finora Non sono riusciti A presentare domanda Questa volta Sono ammessi anche Quei nuclei familiari Dove due o più persone A causa della crisi Hanno subito La sospensione Della propria attività Lavorativa E hanno un affitto Da pagare Gli altri criteri Sono invece Gli stessi Delle volte precedenti Passeggiate invece Guardate questa fotografia Siamo sulla Darsena Borghese Lungo il canale Vicino alla Lisce Insomma Qui c'è un progetto Il progetto Di realizzare Una passeggiata Che tra l'altro È molto Davvero molto bella Una passeggiata Lungo il porto canale Che collega Se vogliamo Il centro storico Fino al mare Fino al Lido Passando appunto Per la Darsena Borghese C'è il Questo incarico Per il progetto Ecossecutivo L'architetto Bursi Che dice Operiamo in smart working Ma in 30-40 giorni Noi saremo Anche pronti Quindi È particolarmente Suggestiva Questa nuova illuminazione Anche ideata Per il percorso Diteci invece Sotto quali tempi E a che condizioni E che misure Se richiede la Regione Al Governo Certezze Sulla stagione turistica Quindi Anche qui Si parla di Tutti i soldi Che effettivamente Verranno sicuramente Persi Per questa mancata Stagione balneare O strana Forse Stagione balneare Buoni pasto Riaperta la piattaforma È più ampia La platea dei beneficiari Scrive il Corriere Adriatico Sempre sulla pagina di Fano C'è tempo fino a venerdì A disposizione Circa 58 mila euro Sei operatrici A supporto Del servizio online Dice L'assessore All'Welfare Dimitri Tinti Oggi Parte la selezione Per i comuni Dell'ambito E dunque Insomma Ci sono tutte le informazioni Che potrete trovare Qui con i numeri Di telefono Le email Per Per questa Per questi nuovi Buoni Etichetta Arrivano sei nuovi Vigili urbani A Fano Assunzione stagionale Ma la copertura Della spesa È affidata Alle multe future Dunque sei nuovi Vigili urbani Sono quelli stagionali Che oggi Che ogni anno Vengono reclutate Ad aprile Per un periodo di sei mesi Questa volta però È un po' diverso Non si tratta solo Di fronteggiare Il carico di lavoro Supplementare Garanzia Della sicurezza Del pubblico Dei turisti Eccetera Eccetera Si tratta In questo momento Di invece Di essere a servizio Nel comune di Fano Per questa emergenza Che continuerà E proseguirà Anche perché Di turisti Probabilmente Se ne vedranno Pochi Andiamo a Fossobrone Qui di taglio basso Sulla bitumazione L'azienda è pronta A parlare In assemblea Boscarini Contesta Alcune affermazioni E immagini Che sono state mostrate Durante l'incontro Che c'è stato A gennaio Dalla pagina Della valla del Cesano Si parla della rapina Alla coal Confermati gli arresti Dei due indagati Il più giovane Dice Lo fatto per disperazione Il cugino invece Sceglie di non rispondere Alla giudice Un'indagine lampo Dei carabinieri Il bandito armato Era stato tradito Da un tatuaggio Praticamente Sulla mano In auto Con patente e documenti falsi Condannato Un fanese di 47 anni Sorpreso dai carabinieri Nel giorno di Pasquette Invece qui c'è Giovanni Carboni Ciclista professionista Che è andato in onda Sui social E ha fatto una puntata speciale Il campione di casa Giovanni Carboni Ciclista della Bardiani Che ha partecipato in diretta All'iniziativa San Costanzo Neire Promossa dal Comune Dalla sua pagina Facebook Insomma ha fatto questa diretta Con i suoi concittadini Poi da Senigallia invece Chiudiamo con La notizia di cronaca Queste sono Questa l'immagine Della palazzina Dove l'altra notte L'altra sera Intorno alle 11.30 Di lunedì Siamo a lunedì Di Pasquetta Questa palazzina Andata in fiamma Nel centro di Marzocca Dentro c'erano Tre donne Che sono finite Tutte e tre All'ospedale Un'abitazione in fiamme L'anziana proprietaria La badante E una vicina di casa Intossicate dal fumo L'incendio È successo Ed è scaturito A causa di un corto circuito Uno shock Per tutta la frazione Dove le famiglie Polverare e Cerioni Sono molto conosciute Note E anche stimate In fondo invece La notizia della morte Di Elpidio Spinozzi Venuta a 87 anni Presidente Della Pierpaoli S.R.L È stato anche Presidente Del Lions Club Di Senigallia Con questo Chiudiamo qui La nostra segna stampa Grazie per averci seguito Vi auguro Una buona giornata Noi ci vediamo stasera Alle 20.30 Con il telegiornale Vi ricordo Il 338 49 68 250 Per le vostre segnalazioni Segnalazioni Che Abbiamo Deciso Di pubblicare In un Giornalino In un giornale Non giornalino Un giornale Online Che Troverete Sul nostro Sito internet Occhioallanotizia.it Il giornale Si chiama Il giornale di casa Ed è Uno spazio Nel quale Noi pubblicheremo Tutte le segnalazioni Che arrivano Sul nostro Numero 338 49 68 3250 Ovviamente Le pubblicheremo Se riterremo Utile Pubblicarle Mantenendo E garantendo L'annunimato A chi ce lo chiede Verificando Come sempre Le fonti Eccetera Eccetera Quindi non cambia nulla È soltanto Un modo Per Comunque Dare la possibilità Ai nostri Telespettatori Di dire La propria Quindi Pubblicare Questi messaggi Utili Che possono Essere utili Per la collettività Poi alle 10 C'è invece L'appuntamento Vi ricordo Con la ginnastica In casa Io resto in forma Alle 10 E alle 16 Un appuntamento Che anche questo Sta riscuotendo Molto successo E poi tutti gli altri Appuntamenti Religiosi Con rosari e messe E tutto quello Che possiamo offrirvi In questo periodo Così complicato Ma noi Teniamo duro Ci vediamo stasera Alle 20 e 30 Con il telegiornale Arrivederci Grazie a tutti